qui sono sicuro che ve l'ha sfilato lo ripongo di nuovo qui bisogna sempre spingere sui fori presenti quindi vi dico di spingere sui fori presenti per poter cambiare il cinturino dopo che avete messo qui potete usare questo per infilare questa estremità così potete fare per per rimontarlo il primo è andato e manca questo è importante tenerlo premuto con le mani mentre usate quell'attrezzo che c'è qui eccolo di nuovo qui